Un comune per tutti, Davide Esposito Sino. Buonasera cari amiche, buonasera cari amici. Lo scorso 20 maggio, giorno di presentazione della nostra lista, ci siamo presentati a voi parlando del nostro schema di gioco, parlando di quello che ci consentirà di vincere la partita di domenica 11, il nostro programma. Un programma chiaro, trasparente, condivisibile. Noi crediamo, partendo proprio dal programma e stasera vi vogliamo parlare di questo, crediamo che sia fondamentale in questo periodo di forte pressione fiscale procedere ad un'importante riduzione delle tasse comunali. Il recupero delle somme che il comune non incasserà con tale riduzione verrà attuato tramite una politica orientata ad un concreto taglio della spesa pubblica, alla riduzione degli sprechi e soprattutto attraverso la presentazione di progetti innovativi, attraverso i fondi comunitari che purtroppo non sono stati utilizzati in passato per la mancanza di idee veramente innovative. Vogliamo che ci sia l'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti. Qualcuno nei scorsi giorni ha detto che quando le cose si vedono dall'esterno sembrano più facili. In realtà noi non crediamo che dall'esterno le cose siano più facili, noi crediamo che dall'esterno possiamo individuare quelle lacune che possono essere colmate e che possono portare avanti queste iniziative. A nostro parere...